sa che ci siamo abbiamo l'assetto abbiamo i cerchi vi faccio vedere meglio questi sono i cerchi bellissimi col verde lì sopra con questi cerchi qua alfa 75 social edition by mastello parts non sono specializzato quindi devo andare da uno che li sa montare mettiamo in pausa un attimo perché comunque vanno montati e poi iniziamo la preparazione ho notato una domanda che mi fate in tanti i bocci da grandine visto che a nord è arrivata la grandine mi chiedete come si fa a far la grandine vi faccio vedere come si fa a far la grandine perché comunque questa macchina qui di bocci ne ha tantissimi la grandine si fa in tre maniere diverse abbiamo le leve abbiamo la cola a caldo abbiamo la macchinetta questa qui non la conosco non andremo utilizzare anche perché non ce l'ho ci concentriamo su questo kit qui che sarebbe a caldo quindi abbiamo le nostre ventosine la pistola l'estrattore e la cola questo qui ci sarà da lavorare perché come vi dicevo anche prima la macchina di bocci ne ha tantissimi in ogni caso quando si va a utilizzare le leve oppure la cola a caldo oppure la macchinetta dobbiamo utilizzare una lampada per vedere meglio perché se io mi piego e la guardo così la macchina è perfetta invece no anche questa ha una leggera grandinata e dei dei bozzetti da parcheggio che poi ve li faccio vedere meglio con la lampada quindi iniziamo direi di partire dal kit comunque si loro mvm fa anche queste cose qui non fa soltanto saldatrici e poter fanno tutto e questo è fatto l'abbiamo montata funziona ci siamo guarda che ora si vedono con la lampada direi che ci siamo la pistola è andata in caldo abbiamo le ventosine abbiamo una lampada abbiamo i bocci e abbiamo l'estrattore abbiamo messo le ventosine esattamente al centro della botterina attendiamo 5-10 minuti che la cola si asciuga su queste ventosine qua da una parte ci mettiamo la cola dall'altra parte ci hanno questa testina qui che è abbastanza standard che ci va l'estrattore oppure il martello da tirare o in questo caso qui voglio usare l'estrattore perché è un po più è un po più facile da usare e si riesce a controllare meglio per usare il martello estrattore devi essere veramente un professionista con questo qui è leggermente più facile quindi ci mettiamo l'estrattore andiamo ad incastrarlo e poi tiriamo su vedi guarda dipende dal caso delle volte la colla resta attaccata o sulla ventosina o sulla macchina per staccare questa colla qui dalla ventosina oppure dalla macchina alcol spruzzatina se viene viene un attimo guarda sì non è detto che viene la prima volta al primo colpo la vedi lì che ci è rimasta ancora un pochino ripetiamo la stessa cosa mettiamo la cola qui e gliela proviamo a mettere proprio il centro se ci fate caso ora noi siamo alti siamo bassi lì nel centro però siamo alti quindi tutto questo alto qui intorno va battuto giù tiriamo anche gli altri i rischi ci sono sempre vabbè che questa è una vernice che ha vent'anni che il cofano è stato riverniciato quindi salta via la vernice su una macchina recente di fast i bozzettini qui la vernice non dovrebbe saltare via questo caso è saltato io comunque sono a livello per quello che devo fare io su questa macchina qui quindi la devo carteggiare portare la lamiera vado benissimo sono a livello mi piace siamo stati bravi siamo stati più che altro fortunati ne ho visto una grandissima qua proviamo a fare anche questa poi dopo la valutiamo speriamo che non ci salti via la vernice guarda che lavorino qui siamo stati bravi siamo stati più che altro fortunati e anche sembrava molto più difficile questa rispetto a quella quelle lì sono molto più difficili perché sono molto fonde e si fanno molto meglio con le leve con la cola le fai le tiri a livello però fai fatica ad avere un risultato come questo qui fai molta fatica è un lavoro che si può fare a casa secondo me no non è un lavoro da fare in casa io sono un carrozziere non sono un levaiolo so farli ma perché è la superficie da verniciare quindi io vado poi a stappare tutto quanto dal fondo e riesco pareggiare probabilmente su dieci volte come quella lì dove abbiamo trovato la perfezione le riesco a far due così quindi probabilmente ho avuto anche un po di culo per fare per far bene sto lavoro qui devi essere veramente un artista ma gli artisti li vediamo già come camminano i levaioli che camminano tutto il tempo così in modo strano questo video lo dedico loro perché sono veramente veramente delle persone meravigliose e questo è tutto vi ripeto se volete provare ci sono dei kit su su amazon da 100 120 euro provate fate anche il tiktok così vediamo un attimo quello che avete combinato le cose che potete fare voi a casa sono queste cose qui che fra un po presenterò camaleon sono delle cose belle fai il cerchio fai fai per soddisfazione ecco fai un pezzo della macchina fai degli elementi decorativi e quello è facile quello vi posso garantire che è molto facile però se ci mettete le mani su una macchina e la rovinate quindi mettiamo che il tetto è tutto grandinato tirate male sulle leve e poi dopo avallate tutta la superficie ecco lì neanche un levaiolo non vi può più salvare quindi non so cosa dirvi ragazzi se volete provare provate